Durante una diretta televisiva, l'inviata della RAI, Giovanna Botteri, si è ritrovata in lacrime a causa degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Parigi. Tuttavia, il motivo del suo pianto non è stato dovuto alla paura o al panico, ma piuttosto all'inalazione di gas lacrimogeni utilizzati dalle forze dell'ordine per disperdere la folla. Giovanna Botteri si trovava nella capitale francese per seguire le proteste contro la riforma delle pensioni del presidente Macron, che ha suscitato un forte malcontento tra le opposizioni e la popolazione. Nonostante le difficoltà incontrate, la giornalista ha dimostrato grande professionalità nel continuare a riportare la notizia ai telespettatori, nonostante gli occhi arrossati e lacrimanti. Il video che mostra Giovanna Botteri nel mezzo degli scontri sta facendo il giro del web, evidenziando la sua tenacia e la sua determinazione a portare avanti il suo lavoro. La sua vicenda è un esempio di come la professionalità e il coraggio possano prevalere anche nelle situazioni più difficili e pericolose. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.